Musumeci, Miciche ha rotto gli indugi e ha detto che si candiderà, ma lei fino all'ultimo prova a tendergli la mano? Seriamente e concretamente so che non esistono seri motivi per abbandonare un progetto al quale Miciche ha pensato e che ha elaborato assieme alla mia parte politica col suo grande sud e che ha trovato il consenso di vari soggetti e forze politiche a cominciare dal PDL e inizialmente dallo stesso partito dei siciliani. Siccome non esistono concreti motivi per non farlo, io voglio sperare e pensare che i rancori, i risentimenti, le antiche ruggini delle vicende politiche siciliane che hanno interrotto persino rapporti personali fra alcuni esponenti politici, possano essere superati i rancori perché dettati dalla opportunità di mettere tutti assieme le proprie forze per fare fronte ad una emergenza che potrebbe davvero diventare irreversibile. Parlo delle condizioni disastrose della Sicilia sul piano economico, sociale, culturale, a cominciare dal bilancio della regione, per responsabilità che sono recenti ma sono anche antiche, esasperate e aggravate in un contesto nazionale e internazionale che è quello del quale tutti siamo vittime. Questa è una competizione elettorale diversa dalle altre, non si potranno raggiungere quelle cifre che magari hanno caratterizzato le precedenti elezioni, si vincerà giusto per uno scarto di voti, come la vede? È vero, la legge elettorale consente che si possa essere eletti anche senza raggiungere il 50,1% dei votanti. Io credo che questo panorama così frammentato, se tale dovesse restare, potrebbe consentire la elezione del Presidente anche col 30% dei voti. Al di là dello schieramento dei partiti che è robusto e che è solido e che non finisco mai di ringraziare per la fiducia e il sostegno che tutti mi stanno manifestando dai segretari nazionali all'ultimo dei dirigenti, io punto moltissimo sul voto d'opinione, sul voto libero, sul voto della gente che si era, amo dire, iscritta al partito della rassegnazione, sul voto della gente che aveva deciso di non votare o della gente che da anni non va più a votare. Io sono convinto di avere le carte in regola per chiedere ai siciliani, al di là delle collocazioni politiche, per chiedere un voto per il cambiamento. Per certi versi questo periodo assomiglia alla sua prima elezione a Presidente della provincia di Catania. Trova delle analogie per quello che stiamo vivendo fra questa fase dell'Italia della Sicilia e il 1994? Sì, e sono tante. Il contesto difficile internazionale, l'esasperato tasso di disoccupazione, lo scollamento tra piazza e palazzo, il divario fra eletto ed elettore, la questione morale dilagante, la partitocrazia esasperata e la voglia di cambiamento e di pulizia. Io ricordo di essere stato eletto nel 1994 quando tutte le previsioni, i sondaggi mi davano al terzo o al quarto posto su sei concorrenti. Ricordo anche, me lo lasci dire, non è civetteria ma è orgoglio, che essendo andato io in ballottaggio assieme al candidato di centro, l'uomo di punta del Partito Comunista italiano, allora si chiamava già Partito Democratico della Sinistra, consultato dai giornalisti, disse che in ballottaggio andrò a votare e voterò per il candidato della destra, perché me lo impone il sistema elettorale e perché il cambiamento viene suggerito da un elemento di novità e dalla discontinuità rispetto al passato. Presidente, a proposito di frammentazione di cui lei ha parlato e di localismo, che ruolo pensa possa giocare in queste elezioni il Presidente uscente della Regione, Raffaele Lombardo? Il Presidente Lombardo credo abbia resa noto la sua volontà di ritirarsi dalla vita politica attiva da ruoli di responsabilità di governo o comunque istituzionali. Il suo partito ha cambiato il nome, ne ha affidato la guida al senatore Pistorio e tuttavia credo che rimanga una vasta area di elettorato che si richiama alla cultura centrista innanzitutto, a quella autonomista in particolare, che si è consolidata negli ultimi anni con il governo della regione siciliana. Dell'autonomismo, direttore, si possono dire mille cose diverse l'una dall'altra, è una parola elastica se posso utilizzare questo termine. Io sono convinto che finora l'autonomia sia stata utilizzata più come un alibi, come una protesi comoda, piuttosto che come straordinario strumento di opportunità, così come venne concepito dai nostri padri nel 1946 per poter crescere, per poter recuperare il divario con le regioni del nord. È stata una protesi, è stata una foglia di fico per coprire una classe dirigente, con le dovute eccezioni, una classe dirigente di farisei che ha saccheggiato tutto quello che c'era da saccheggiare, responsabilità antiche che hanno coinvolto il centro, la destra e la sinistra, la destra intesa nel senso lato del termine e non del partito al quale appartengo che non ha mai avuto responsabilità di governo regionale. Quindi io mi auguro che l'autonomia torni al suo valore essenziale, che è quello della responsabilità, che non è quello di uno sciocco esterile rivendicazionismo nei confronti di Roma, un'autonomia che diventi anche sicilianità, cioè l'orgoglio dell'appartenenza, ma nella consapevolezza che se la Sicilia resta fra le ultime regioni d'Europa per tasso di disoccupazione, per carenza di infrastrutture, per qualità di vita, la colpa e i responsabili non vanno individuati soltanto a Roma, ma anche a casa nostra. Lei ritiene, e questo è un tema anche di interesse nazionale, che in queste elezioni si possa prefigurare un ruolo strutturato dei cattolici in questa tensione elettorale? Oggi il voto cattolico è diffuso, e io dico è un bene che sia così, è diffuso in larghe forze dello schieramento politico italiano. Sono convinto che noi abbiamo il dovere di richiamarci, soprattutto oggi per chi è credente come me, ma anche per chi non lo è, e con rispetto si accosta ai principi ispiratori del cattolicesimo sociale, perché la Chiesa può e deve svolgere un ruolo importante nel rispetto delle autonomie fra il potere spirituale e le istituzioni, il mondo cattolico ha il dovere di sollecitare l'etica della responsabilità, che in politica è diventato un arnese ormai fuori uso, distinguendo per carità il reato dal peccato. E non crede che questa possa essere una campagna elettorale dei campanili, cioè i catanesi, in questo caso rappresentati da lei, i palermitani con Miciche, piuttosto che Crocetta che rappresenta l'area del Nisseno, ma lo stesso Fava che è espressione di una parte sostanziale della Sicilia orientale. Ecco, non ritiene che possa essere la campagna elettorale dei sicilianismi, dei siculi contro i sicani? Noi siciliani siamo un popolo strano, non soltanto per quello che ha scritto Pirandello o per il gattopardo a quale si fa spesso fare riferimento, siamo molto eccentrici alla ricerca del protagonismo, in un matrimonio vorremmo essere la sposa e in un funerale la bara, perché siamo fermamente convinti di essere una comunità a parte rispetto al resto d'Italia, pur essendo profondamente italiani, perché io sono convinto con il rispetto per tutti gli autonomisti con tendenze indipendentistiche, che la Sicilia si riconosca nella unità nazionale. Italia senza Sicilia picca cunta, Sicilia senza Italia se ne scanta, nel senso che l'Italia ha bisogno della Sicilia per diventare terra più apprezzata e la Sicilia ha bisogno dell'Italia. Allora, al di là di tutto questo, una campagna elettorale così appassionata, con candidati che sono espressioni non di realtà geopolitiche diverse, questo conta poco, io credo che un Presidente della Regione palermitano possa essere attento agli interessi della provincia di Catania o della Sicilia orientale e viceversa un Presidente della Regione catanese possa benissimo interpretare le istanze di crescita e di sviluppo della Sicilia occidentale. Io credo che serva un Presidente che per la sua storia personale, per la sua appartenenza a valori che non sono negoziabili, per il fatto di non essere ricattabile, possa davvero incarnare questa nuova stagione di cambiamento e di rinnovamento, con una cultura che non deve essere improntata all'odio, al risentimento, al rancore, come mi sembra di cogliere in qualche candidato alla Presidenza. Occorre aprire i cuori alla speranza, occorre andare al di là degli steccati, occorre superare gli schemi politici tradizionali e questo è il lavoro che io da qualche giorno, da quando sono stato investito, mi sto sforzando di portare avanti e da domani in poi, avendo sciolto la riserva, sarò in tutti i centri dell'isola, piccoli, grandi, nelle campagne, nelle fabbriche, nelle officine, ovunque sarà necessario portare una parola di speranza perché innanzitutto dobbiamo recuperare la gente al diritto al voto, ecco il cittadino deve diventare partecipe e protagonista delle scelte, poi naturalmente mi auguro che la scelta possa ricadere sul mio nome, sarà una campagna elettorale appassionata e appassionante e mi auguro in un contesto di civiltà perché per quanto mi riguarda dal primo momento ho detto di avere grande rispetto per i miei avversari e se dovesse esserci una caduta di stile da parte di qualcuno, certamente non troverà in me l'uomo disposto a rintuzzare le velleità dell'avversario antagonista. Alla fine la tefra di Berlusconi è arrivata? Ho parlato con il Presidente Berlusconi per 30 secondi quando mi ha detto qualche giorno fa ho lasciato la mia classe dirigente siciliana libera di decidere cosa fare nella scelta per il Presidente della Regione. La ringrazio per la domanda perché questo mi consente di dire di essere, lo dico con grande orgoglio, il primo candidato Presidente della Regione siciliana ad essere stato scelto in Sicilia e non nei palazzi romani e mi crede, non è davvero poco per chi dell'autonomismo non ne fa soltanto uno slogan.